Un bilancio disastroso per la montagna dove la mancanza di neve unita all'impossibilità di produrla artificialmente viste le elevate temperature sta causando perdite ingenti, tanto che si lavora per attivare un piano per gli appennini per far fronte ai danni subiti dalle attività economiche. Al lavoro dunque per quantificare le perdite subite dai comprensori sciistici anche in Molise, come conferma Fausto Parente, amministratore unico di Funivie Molise, la società partecipata della regione proprietaria delle strutture di risalita. Sono in contatto sia con il presidente del Federfun Italia che mi ha contattato sabato scorso, mi ha inviato dei moduli da riempire per indicare i danni che sono riportati per questa calamità, questa mancanza di neve. Stamattina ho sentito l'assessore al turismo Vincenzo Cotugno, il quale mi ha girato una nota del Ministero del Turismo dove ci chiedono dei dati in modo tale da poter elaborare un programma per gli indennizi. E la tempistica? Dobbiamo completare il tutto entro sabato 21. Scarso, pressoché assente il manto nevoso in regione, aperti solo l'anello turistico e a valle di Capracotta, impianti collaudati ma tutto fermo a Campitello Matese. Capracotta c'è qualcosa in più di neve ma ancora è insufficiente insomma, per quanto riguarda il fondo forse si riesce a fare qualcosa, però è necessaria la neve, serve la neve quella importante, insomma la neve che ha fatto fino ad essere poca cosa. Su Campitello Matese, nello specifico, quali lavori sono stati fatti? Quindi impianti pronti, manca solo la neve? Sì, gli impianti sono tutti pronti, cioè la Capodacqua è pronta già dall'anno scorso, quest'anno abbiamo solo fatto il collaudo ma era già pronta, i lavori hanno stati conclusi. Poi per quanto riguarda la del Caprio, quella più importante come seggiovia, sono stati completati i lavori a novembre e sono stati collaudati, quindi adesso è in funzione. La piana è pronta, è stata collaudata, quindi può funzionare. La San Nicola, sono stati completati i lavori, non c'è il collaudo per un semplice motivo perché per collaudare la sciovia è necessaria la neve. Ma neve a parte, la montagna mantiene sempre il suo fascino indiscusso. Diversi turisti che hanno scelto di trascorrere la domenica a Campitello Matese. Poco la neve, è poca, però vabbè ci godiamo quello che c'è diciamo. Sì, mi aspettavo un po' più di neve, però vedendo un po' le temperature generali mi aspettavo che un po' la neve era così. C'è chi è venuto da fuori regione per godere della montagna e passare una giornata diversa. È semplicemente insieme con il gruppo, divertendoci diversamente, senza sciare. Tra l'altro non sono venuta per sciare. È la seconda volta, è anche qui per goderci la montagna. Con l'animazione e quello che c'è ci creeremo degli spazi. La trascorreremo così in famiglia, un po' per far divertire i bambini, per passare una giornata diversa. Un paesaggio molto bello, si sta bene, si diverte per i bambini, si sta bene. Confidando nelle previsioni meteo degli esperti, ora non resta che attendere la neve annunciata nella speranza di archiviare il flop delle vacanze natalizie e di poter aprire gli impianti già dal prossimo weekend.